Io non potrei più farmi vedere al lavoro. Non è stato così brutto. Mi sembra molto brutto. A volte piango quando faccio sesso, non è brutto. D'accordo. Hai una faccia orribile. Sì. Direi che hai ragione. Pirra. Certo. Allora, la Kepner è incinta? Insomma, sì, era più strana del solito. Tu le prendevi il sangue. Ecco. Beh, non che siano affari tuoi, ma... No, non è incinta. È una cosa per cui brindare. Possiamo fare un altro giro? Arriva. Basta dire che è strana. Ma lo è? Sì, lo so, lo so, però... Non ti è permesso di dirlo. Dov'è a te?